Siamo con Alessandro, Ale com'è andata la prima prova? E' andato molto tranquillo, è stata la prima prova, non era tanto difficile, quindi mi sono trovato pure con la traccia, che ci hanno fatto a geniato e mi sono trovato al mio agio, quindi molto tranquillo. Quale traccia hai scelto? Ho scelto la traccia che parlava praticamente della cultura e delle tecnologie, e questo paragone, queste rivoluzioni che stavano in contrasto tra di loro, che hanno avuto delle loro cose positive. Ok, cosa ti aspetti dalla seconda prova invece? Dalla seconda prova sarà un po' più complicata, però la prendiamo sempre su positivo. Emi dell'Istituto Biotecnologico Sanitario, hai fatto la prima prova, cosa hai scelto? La tipologia B2 del test argomentativo, mi è piaciuta perché parlavo un po' delle tecnologie innovative e quindi mi interessava questo. Ok, cosa ti aspetti da domani invece? Eh, non lo so, spero solo che andrà tutto bene e basta. Com'è andata questa prima prova? E' andata abbastanza bene, diciamo che rispetto alle prove che abbiamo fatto in precedenza è stata un po' più difficile ma abbastanza agevole. Ok, che traccia hai scelto? La traccia A2 era un racconto di Leonardo Sciascia. Ok, e invece per domani cosa ti aspetto? Per domani mi aspetto che i professori ci faranno copiare tutto perché matematica e fisica è molto difficile. Jasmine, com'è andata la prima prova? Allora, abbastanza bene, stanotte ho sognato Giovanni Falcone quindi ho scelto la traccia sulla legalità quindi penso che sia andata abbastanza bene perché avendolo sognato penso che sia un segno positivo sia stato quindi diciamo che penso che non è andata male. Non benissimo, forse qualcosa potevo farla meglio però è andata abbastanza bene. Ok, per domani invece cosa ti aspetti? La prova di domani è una tragedia. Mamma mia, ma tragedia, spero veramente che i professori siano molto gentili ai nostri confronti però vabbè, come va ce la prendiamo.